Ok, a questo punto io proverei ad attaccare i milanesi di rirata. Certo hanno 20 unità. E non ci sono mercenari in zona. Vediamo se... Sì, ci sarebbero, ma costano 1.500. Fanteria del... no, sergenti. Uomini in armi italiane. Questi sono del contato. Proviamo. Sì, signor. Signor. Sì, mon roo. Noi siamo en route. Pari, ecco, 58. Ce la giochiamo, ecco, con 58. Signor. Vos ordri? Eh, hanno 3 unità di... no. Beh, sì. Questi sono forti. I cavalieri lombardi. Hanno il sovrano. Il sovrano, insomma. 2, 3, 4 unità di cavalleria e 5. Sì, ho il vantaggio di un'unità. Hanno i sergenti, sergenti. Ce l'ho anch'io. Ce l'ho però solo 2. E 2 milizie. Beh, insomma. Vediamo. Arceri ne ha uno solo. Quindi da quel punto di vista il vantaggio. Sì. Ok, schieramento concluso. Il terreno non ci è molto favorevole. Perché lassù è il territorio in cui si possono schierare. Quindi se si mettono sul colle non li schiodo. più. Quindi spero che si trovino in questa zona. Eh. Eh. L'ho chiamati. Giustamente perché dovrebbero mettersi a combattere me su... ...la piana. Proviamo a fare un movimento. Unità in avanti! Ok, quindi anche gli arcieri li muoviamo per così. Stessa cosa alla cavalleria. Eh, la cavalleria però sono arrivato, no? Eh. Vabbè. Sempre meglio di niente. Proviamoci. Unità in avanti! Due. Due. Li tengo qua. Allora, metto in pausa perché qui prima che si spostano tutte le truppe ci vorrà un bel po'. Sempre che non decidi di attaccarmi sul fianco. Sono abbastanza messo bene, ecco da quel punto di vista perché sono comunque in assetto pronti ad essere schierati. Va bene, mettiamo la velocità al massimo. Ok, siamo arrivati sul colle. Stiamo lentamente avanzando. L'inizio del contato. Allora, la cavalleria di qua. Unità in avanti! Esergenti a cavallo. Unità in avanti! Continuiamo a marciare tranquillamente. Stiamo, ma mi piace... Unità in avanti! Manteniamo la posizione. Manteniamo la posizione. Fermate! Ok, stanno caricando Pausa perché qui vedo che... Ok Allora, questi ci sono Questi attaccati questi Questi attaccati questi Questi si schierano così Ok, questa galleria è arrivata a sfondare Voi attaccate questi Voi continuate ad attaccare questi Quegli arcieri ci sono Ok, questi li spostiamo più sul fianco Ok Andiamo verso qua Ok, qui abbiamo sfondato Mandiamo dei rinforzi qui Eh, questi li stanno vedendo Ok, qui abbiamo dovuto essere qui Grazie Grigari in grigari si siamo intercettati Noelle positive Ok, attacchiamo i sergenti, no, 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 i arcieri si sono fatti scoprire, ok, qui abbiamo liberato il fianco, questi sono, e continuiamo ad attaccare questi, qui mandiamo degli esforzi, e questi li abbiamo sistemati, qui ancora si combatte, mi sa, beh noi li abbiamo scacciati, perfetto, continuiamo in seguimento, ok, si passa così, richiamoli, perfetto, pausa, diamo un attimo uno sguardo, vediamo com'è andata, si, eccoci qua, eh, qui mi hanno sfondato per benino, anche qua, qui però li abbiamo massacrati, brutta, e qui il primo assalto agli arcieri era andato anche abbastanza bene, poi sono intervenuti i sergenti milanesi, si, ok, andiamo avanti con la velocità, qui li abbiamo massacrati effettivamente, eh, 187 insomma, non pochi eh, 22 ne abbiamo recuperati, non male questo effettivamente, 3, 2, 1, 1, quindi 23, 24, 26, 29, qualche uno ha fatto un po' di esperienza, ok, e questi, eh, questi sono tutti massacrati, eh, questi vanno bene, eh, questi, eh, sono tutti tutti, eh, ragazzi, qui noi mismo? si chiudete? six, oh, una serie, la madre mi ha writer, adesso? si, si? si, signon? se ne hanno due, quattro, sei, otto, snedoute, e ho bevamo acquistando, il Yamah? se non abbiamo non quasi un altro tempo, ok, bevamo qui posso addestrare sergenti si facciamo dei sergenti riaddestriamo questi mi servono troppe da mandare ok passiamo il turno attenzione che l'Aquitania manda rinforze questo è preoccupante Milano, Genova sono usciti allo scoperto i milanesi il Sacro Marimpero vada gli il Sacro Marimpero Baviera che si prende eh si oh hanno vinto miracolo la Norvegia no la Norvegia perché mi fai questo allora marito passalo di corte 16 anni sì 16 anni certo con quella faccia e stiamo a Parigi matrimonio poi rapporto più 2230 abbiamo reclutato al Metz dei sergenti si a Boulogne questi qui per farli tenere buoni a Treviri altre unità le abbiamo riaddestrate va bene adesso controlliamo anche questo c'era qua giù la situazione sì signor perché se attacco qua sono un po' bloccato perché se lo attacco sicuramente questo interviene sì signor che se riuscissi a conquistare dove sei? una, due, tre queste sono due però c'è il generale signor mesi eus sono le vostre maître facciamo conquista a questo certo potrei darlo a loro non lo so è un po' complicata qui la situazione politica qui non c'era un diplomatico automatico sì sì te maledette città della Liguria che mi fanno solo perdere tempo e passiamo per qua fa prima questo vedete cosa abbiamo qui? Genova Perché nessuno vuole un'alleanza con me? Informazioni geografiche Ci offriamo di attaccare l'Aquitania Dov'è l'Aquitania? Si è vero è molti alleati ma non mi pare che stiano facendo tanto Guardate, sicuro è sotto assedio Ti diamo informazioni geografiche Mi dai dei soldi Ci offriamo di attaccare l'Aquitania Di cosa vuole un'alleanza con me? Informazioni geografiche Informazioni geografiche Ci accetto Che vuole un'alleanza con me? Che vuole un'alleanza con me? Te Pareil munificence e senza esempio J'accepcio Cosa vorreste discutere con me? Alleata solo di Venezia In guerra con Milano Alleanza Informazioni geografiche Informazioni geografiche Temo che oggi dovrò rifiutare Nessuno vuole essere mio alleato Benissimo Perchè perdo tempo con la diplomazia Allora Galizia dal mondo Bizantini Sono in guerra con la Carinzia Fin dove sono arrivati? Pamplona con Leida Sì Qui è l'unica qui da fare qualche magheggio di Loatico Norvegia Sono alleati Sono nemici Che ne dici di Commercio Informazioni geografiche Informazioni geografiche 2460 Controferta We see no benefit to us Greetings A most generous proposal Ho la reputazione a 90 Ma nessuno mi si fila minimamente tu vai qua sì, potrei darlo a questo certo, poi dopo Bremen punta a questi vabbè